Salve a tutti e benvenuti a OptTube Channel, il primo canale YouTube italiano interamente dedicato all'optonegria. Quest'oggi parliamo delle luci di Wart che sono un valido strumento nell'analisi della visione binoculare per quanto riguarda il primo e il secondo grado di la percezione simultanea e la fusione. Fondamentalmente questo test si può effettuare grazie alla lampada di Wart, uno strumento di illuminazione che alla sua estremità frontale ha dei filtri rosso-verdi su 4 mire. In realtà di queste 4 mire luminose, una è totalmente bianca, quindi non ha filtro, poi un'altra ha un filtro rosso e le due restanti hanno un filtro verde. Quindi si fa indossare all'esaminato un anaglifico, quindi un filtro rosso-verde e gli si fa riferire cosa sta percependo. La percezione normale sarebbe quella di vedere una luce bianca, una rossa e due verdi. Se quella bianca appare un po' più rossa o un po' più verde sta ad indicare la dominanza sensoriale dell'esaminato. Quindi se il filtro anaglifico è rosso sull'occhio destro e verde sull'occhio sinistro, allora se la luce bianca appare un po' più rossa si avrà dominanza sensoriale dell'occhio destro. Se avvarierà più verde, dominanza sensoriale dell'occhio sinistro. Se appare in maniera alternata rosso-verde e rosso-verde ci sarà praticamente una rivalità retinica. Se poi praticamente l'esaminato vede due luci rosse o tre luci verdi, allora sta sopprimendo e praticamente le luci che non vede danno informazioni su quale occhio sta sopprimendo. Se vede cinque luci di cui due rosse e tre verdi, allora ci sarà una diplopia che può essere omonima oppure crociata, quindi eso oppure exotropia fondamentalmente, o comunque sia, si potrebbe valutare anche l'aforia attraverso le luci di Wart. Poi il vantaggio delle luci di Wart rispetto ad altre metodologie è che sono un test molto ambientale, infatti si può fare a diverse distanze e in diverse direzioni di spazio, quindi un test molto molto efficiente. Una sua versione molto più ecologica è quella rappresentata dai polarizzati e quindi anziché filtri anaglifici si avranno dei filtri polarizzati. Dunque, questo è tutto per il video sulle luci di Wart. Se vi è piaciuto lasciate like, tanti like e iscrivetevi a questo canale. Noi ci vediamo al prossimo OptoVideo, bella OptoStyle! Wake up! Wake up!